Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, ricettazione e armi. Sono 24 le misure cautelari eseguite nell'ambito dell'operazione cocktail diretta e coordinata dalla DDA di Bari in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e portata a termine dai Carabinieri di Foggia, Scico Roma e Gico della Guardia di Finanza di Bari. Sono stati sequestrati anche beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. Tra i 24 soggetti arrestati, 22 sono finiti in carcere, uno gli arresti domiciliari e un carabiniere è stato sospeso dal pubblico ufficio in quanto avrebbe rivelato notizie sullo svolgimento di indagini in merito a reati predatori, ricevendo in cambio 1.500 euro. Sei soggetti arrestati in flagranza di reato. Al centro delle indagini Cerignola, gli indagati infatti sono prevalentemente della città in provincia di Foggia, ma vi sono anche un albanese, residente proprio a Cerignola, due di San Pietro Vernotico ed altri, tra cui un noto pregiudicato di Terlizzi, indagati principalmente per associazione dedita al traffico e lo smercio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e hashish, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato ai danni di un soggetto cerignolano, a seguito di una lite scaturita per futili motivi di circolazione stradale. La vittima all'epoca riportò gravi ferite, ma non denunciò gli autori a lui noti, probabilmente per il timore di ulteriori ritorsioni. L'attività investigativa, condotta dalla compagnia dei carabinieri di Cerignola, coordinata dalla DDA, è una costola dell'operazione antimafia decimazione contro le tre batterie della cosiddetta società foggiana e rivela il ruolo egemone di tre distinte ma contiguie associazioni cerignolane dedite nel traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti con criminalità organizzata foggiana. In particolare un grosso pregiudicato di Terlizzi, che è il principale fornitore di cocaina, che in questo caso viene commercializzata con provenienza, provincia di Bari e destinazione provincia di Foggia. Emersa inoltre un'attività estorsiva nei confronti di un commerciante di carburanti, è stato sventato l'assalto a un cavo della società Lumis International, con sede a Chiasso in Svizzera, che ha portato alla cattura dei 18 autori per tentato furto aggravato. Durante le indagini sono state sequestrate oltre 23 kg di sostanze stupefacenti, la somma contante di 1.200.000 euro, tre pistole, tre fucili calibro 12 e circa 200 munizioni di vario tipo e calibro. I militari hanno anche recuperato otto Jeep Renegade e tre Fiat 500X, risultate rubate a Melfi. È stato rinvenuto durante una perquisizione in una cassaforte murata una pistola e oltre 400.000 euro. L'indagato è stato arrestato in flagranza per la detenzione illegale dell'arma. Le fiamme gialle hanno eseguito anche accertamenti patrimoniali nei confronti di sette persone. l'Igip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, quote societari e compendi aziendali, per un valore di oltre 5 milioni di euro. Questa operazione è stata applicata un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia. La Direzione Nazionale veramente ci sta dando una grossissima mano nell'affrontare la tematica della criminalità organizzata di tutto il territorio, in particolare di quella foggiana. È una, credo che sia una delle priorità a livello nazionale. Grazie, grazie. Grazie a tutti.